Un weekend davvero niente male per l'Avellino che sabato sera ha battuto nettamente il Foggia allo Zaccheria 3-1 con un passivo che sarebbe potuto essere certamente più ampio. Le solite certezze da trasferta per i lupi che continuano fuori casa ad essere schiacciassassi contro qualsiasi avversaria. Ci vorrebbe il partegno con le rotelle, ironizzato Capitan Tito, diventato il recordman di presenza del girone C a quota 245. E già perché il match di lunedì prossimo contro il Sorrento in casa fa quasi più paura della trasferta foggiana. Pazienza si ritiene ovviamente soddisfatto della prestazione e della vittoria, peccato per il gol a freddo subito da Millico. Reazione però da vera e grande squadra, Sgarbi magari non è il solito di sempre, il primo tempo lo gioca sotto tono, ma De Cristoforo e Palmiero sono due motorini, recuperano e ripartono. Gori davanti a una sentenza e ritorna a modo suo con l'ottavo gol in campionato che lancia una bella sfida interna a Chico Pattierno. Cione che è indemoniato e alla solita prestazione tutta grinta ed esperienza ci mette anche la testa nel senso che stacca e pareggia i conti per il suo primo gol in Serie C. E poi nella ripresa è il momento magico di Manuel Ricciardi, prende il sopravvento, ripartenza a Fulmini e a Sgarbi mette nel mezzo, Ricciardi realizza per il secondo gol consecutivo il terzo in campionato. E' un Avellino da paura che rosicchia punti un po' a tutte, Crotone, Taranto, Juve e Stabia e una, se non entrambe, tra Benevento e Casertana che si sfideranno stasera. Bene così quindi con la settimana più che lunga per preparare la gara contro un sorrento e netta crescita che darà filo da torcere anche ai lupi che nel frattempo però devono chiudere il mercato. Probabili le uscite di Mazzocco e Casarini per l'entrata di una seconda punta. Se ne parlerà stasera, contatto sport dalle ore 21, ospite il direttore dell'area tecnica dell'Avellino, Giorgio Perinetti. Grazie.